Ultimamente ho avuto questa voce critica e perfida nella mia testa. Silenzio! Mi sono impegnata per guarire e mi sono sentita molto meglio. Ma a volte mi chiedo se sia stata quella a guidarmi fino a qui. Sei pronta? Oh, sì. Certo che lo sono. Ciao, sono Sheila D. Rubin. Muoviamoci! Tu sei un personaggio televisivo, ora? Stiamo costruendo uno spazio dove le donne sono libere dai giudizi. Offriamo corsi di meditazione. La masi! Yoga! Ceramica, lesbiche! Sì! E cosa? E brainstorming, un'idea è buona. Sì! Stai per raggiungere qualcosa di grandioso. C'è solo un problema. È Kelly Kilmarty. Lei ti ha battuto sul tempo. Lei è la più famosa. Io sono meglio. Oh no. Stanno guardando a te? È nella mia testa. La fama genera sguardi indagatori. È un'ubriacona. È una bugiarda. Ogni volta che penso che tu abbia toccato il fondo riesci a finire ancora più in basso. Ora inizia davvero a farmi paura. Non vorrai fermarti proprio adesso. Sei a un passo dalla vita. Speravo che non si arrivasse a questo, ma... Scherzavo? Morivo dalla voglia di arrivare a questo. È ora di andare. È più di un semplice accordo d'affari. È la mia vita. L'ho costruito io. Sono io, Body by Sheila. Io vedo qualcuno che è appeso a un filo che aspetta solo il momento per spezzarsi. Lasciami in pace! Sei in via di guarigione? Io sono in via di guarigione! Ho messo a rischio ogni cosa. E se non funzionasse? Non permetterò che accada di nuovo. Non è uno dei passi per la tua guarigione? L'integrità? La guarigione è una strada lunga.